Sempre con Oris siamo qui presenti a presentare il nuovo versione del Big Crown dedicato all'Air Force Belgia. Abbiamo un limited edition con particolare cassa tono scuro con numeri e lancette a richiamo un po' vintage dei classici avviatori dell'epoca. Cinturino in tessuto, day date e circonferenza con indicatori in arancione. Come mi suggerisce appunto il delegato Oris è un 45 mm automatico naturalmente e dal carattere decisamente intrigante e sportivo. Guardiamo anche il fondo cassa con l'apertura della sua deployant di serie che mantiene la stessa tonalità della cassa e il fondello personalizzato con il simbolo dell'Air Force Belgia. Novità Oris 2019